il l'ho preso il tempo già ma sono le prese faccia anche questo ma poi li dovete anche giudicare io faccio solo il tecnico e poi la gente che c'è intorno, che sono osservatori, tratturatori, un po' di tutto, loro devono giudicarli, io devo solo allenarli insieme agli altri due trattori prendi palla gioca, dai che è appena iniziata gioca questi stessi qua, questo giro qua manca il direttore che ci aiuta un po' con tutto, direi quello che è Ah. ma non tagliate ste palle centrali è la terza palla che passa davanti all'aria angolo andiamo ragazzi, andiamo ragazzi un po' più reattivi ma siete stanchi già ho capito Il cazzo non è statounto ma non è stato solo non voglioبي non sia problema non stichiamo non stichiamo non stichiamo ma non stio ma non stichiamo non stichiamo ho paura non c'è va dentro l'arco ma io ce l'ho fatto non posso vado a farlo vado a farlo non c'è più non voglio vedere non voglio vedere non ci credo ma come fai? si ribaltano gli attaccati dentro la tomba ma come fai? fof oh no 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 non è comunque non lo compriamo non c'è un bel passo c'è un grande Non è tanto, ma... Mi sono pagati! Va bene? Qui sono bravi, tutti bravi Andiamo, andiamo! Non ti vedi, era bello! No, va bene, non ci accelta la fama quel passo Ma, no, è piccolo non lo è Ma, niente, come siamo quel tempo? Te lo dico subito, un attimo solo Te lo dico subito, un attimo solo Appare fuori? No, no, in realtà non mi serve un giro Vero di due Aspetta un attimo Il cane si è burga, cosa tu? Mancano 9 minuti 9 minuti? 9 minuti Tocca! Torriamo! 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 Sono, sono! Torriamo! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 6 più 3 minuti di recupero 9 3 minuti di recupero si vuole 6 minuti di recupero si vuole Il cambio della squadra Il cambio della squadra dove è il cambio della squadra Grazie a tutti 2 e 7 scambi da squadra 2 e 6 minuti di recupero si vuole Cambio della squadra B dov'è? L'altro cambio della squadra B 1 e 6 minuti di recupero 1 e 6 minuti di recupero 3 minuti di recupero 3 minuti di recupero 3 minuti di recupero si vuole 2 minuti di recupero si vuole 1 minuti di recupero si vuole te lo dico la cosa bella chi è che lo teneva lui era in mezzo no è quel ragazzo che è entrato no no deve fare il centrale diglielo mancano 3 minuti più l'overtime se glielo vuoi dare amico dov'è quello che è entrato nuovo Ale ma devi fare il difensore centrale sei entrato dopo dove cavolo vai Corco Dovelle Alla fermi un attimo allora rifare un attimo il difensore andiamo ragazzi svegli ti prendi sempre i meriti di ogni cosa r1 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti